C'è una svolta nelle indagini sulla scomparsa di Antonio Natale, il 22enne del Parco Verde di Caivano, che la sera del 4 ottobre scorso aveva fatto perdere le sue tracce. Il suo cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nei pressi di un campo rom non autorizzato nelle campagne di Casola, la frazione di Caivano che confina con Marcianise a ridosso dei Regi Lanni. La conferma è arrivata nella tarda sera di ieri dalla procura di Napoli Nord. Per Antonio la scorsa settimana si era mobilitato il suo quartiere con un corteo e una veglia di preghiera. Prima della scoperta del cadavere erano in molti a immaginare che Antonio fosse stato ucciso la sera stessa della sua scomparsa e che il corpo era stato fatto sparire così come vuole il rituale della lupara bianca. C'è un impenetrabile riservo tra gli inquirenti, una cautela che in genere accompagna le fasi investigative prima che possa scattare qualche arresto. Tuttavia sull'identità dei possibili coinvolti nel quartiere si vociferano già i nomi. Si dovrebbe trattare di due fratelli dei quali uno che ha appena 21 anni e già responsabile di una delle più grosse piazze di spaccio del Parco Verde. Non escluso che Antonio possa essere stato tradito da uno dei suoi amici, uno degli ultimi ad averlo visto. Anche il movente dopo una notte di interrogatori sarebbe stato individuato. Per i suoi carnefici Antonio Natale sarebbe stato colpevole di aver rubato decine di migliaia di euro dalla cassa comune della piazza di spaccio, di aver fatto sparire un carico d'armi e di aver partecipato alla stesa di fine luglio nel Parco Verde, quando una trentina di ragazzi a bordo di moto di grossa cilindrata in pieno giorno esplosero centinaia di colpi di Kalashnikov terrorizzando il quartiere. Un'azione da costringere Don Maurizio Patricello a sospendere il campo estivo in parrocchia per salvaguardare l'incolumità dei ragazzini. Grazie. Grazie.